Amici di Caccia Passione, Verona EOS 2023, stand laica con Francesco Corrado. Francesco, stiamo presentando tutta la gamma delle novità che sono tantissimi complimenti all'azienda che veramente non si fanno. Parliamo di termici, sembra che sia il prodotto del momento, tutti parlano di termici, tutti vogliono il termine, tutti sono interessatissimi. È il prodotto del momento per due motivi, il primo perché di giorno rivoluziona la caccia, come probabilmente l'ha rivoluzionata 100 anni fa il canocchiale d'appuntamento. Perché? Permette di sostituirsi al binocolo nella ricerca dell'animale nell'ambiente. Non ci sono più i 20 minuti di sbinocolato da una valle all'altra per cercare qualcosa, ma ci sono i 10 secondi di scandaglio con un termico per tirar fuori gli animali anche da dietro i cespugli. L'altro motivo è che con l'esplosione del cinghiale, gli interventi di controllo notturno del cinghiale autorizzati sempre di più nelle varie zone, vengono facilitati dall'utilizzo del visore termico applicato all'ottica diurna. Cioè si può utilizzare la propria carabina semiautomatica da cinghiale con l'ottica o la carabina da caccia di selezione, con un adattatore fatto bene, di alta qualità, su misura per il canocchiale e per il visore termico. Noi siamo il leader di mercato nei visori termici di alta qualità. Il prodotto si chiama Calonox. Finora è stato declinato in due prodotti. Il Calonox View, che serve solo per osservare, e il Calonox Sight, che serve per osservare e con un adattatore a montarsi sull'ottica. Un prodotto è da 4.500 e l'altro è da 4.000 euro. Per venire incontro alla ricerca dei clienti di un prodotto di altissima qualità, magari con un budget un po' più limitato, anche qui con tutte le economie di scala che ha avuto l'Ica nell'acquistare gli schermi e i sensori, che sono i due prodotti che sono elettronica pura, per cui non è il prodotto che fa l'Ica, ma come tutti viene accusato da fuori, abbiamo accesso a prezzi minori, per cui possiamo proporre una versione del Calonox Sight, cioè quella che osserva e mira, a 1.000 euro in meno, cioè dal primo di aprile sarà possibile avere anche un terzo prodotto, che si chiama Calonox Sight SE, prezzo di listino 3.075 euro, rinunciando alla possibilità di raddoppiare le dimensioni dello schermo per osservare col comfort visivo di un visore da osservazione normale. E quindi equiparandosi con quel modello, a quello che offre il top della concorrenza, che comunque è sempre limitato a uno schermo piccolo, che serve sia per osservare che per fare appuntamento. Quindi, se uno vuole utilizzare il prodotto sia per osservare che per fare appuntamento al top, il Calonox Sight è fantastico. Se a fronte di un risparmio di quasi 1.000 euro è disposto ad avere uno schermo più piccolo, mantiene comunque tutte le funzioni e la qualità del prodotto, rinunciando solo a una funzionalità, per carità, importante, ma andando a prendere un prodotto che si trova nella concorrenza a 2.000 euro in più, con qualità anche inferiore, anche di materiali e di facilità d'uso e di assistenza, di tenuta del valore del marchio e quindi con l'Aica che offre così al cacciatore un accesso al suo prodotto ad un prezzo che finora era riservato a prodotti cinesi di fascia media. Direi che questa politica di mantenere la qualità elevatissima, di riuscire a fare come tutte le economie di scala e portare un prezzo, anche abbassandolo rispetto a quello che è il trend adesso di questo momento, dove tutto sta aumentando, è assolutamente lodevole. È un segno di forza anche dell'azienda, però certamente è lodevole il fatto che non si tengano in guadagno tutto in casa, ma lo ribaltino in parte alle... Sì, siamo rimasti anche l'unica azienda che quando uno perde un pezzo di ricambio lo spedisce a casa gratis. Da quest'anno siamo stati abbandonati dalle concorrenti che lo faceva e non lo fa più. Direi un servizio a 360 gradi di altissima qualità. Francesco, grazie mille e complimenti per le moltissime novità. Grazie. A presto. Grazie.